Amici di Vini in Vino, ciao! Buongiorno, siamo sempre qui per voi a degustare degli ottimi vini, oggi con l'amico Cristia beviamo un ottimo bollicina per voi. Butter, qui siamo in Trentino, Butter Brut è un trend to dock quindi siamo alla zona di Logareto e tutto Chardonnay quindi al cento per cento 12 gradi e mezzo. Andiamo a vedere! Che bella spuma che è, che belle bolle! Bellissimo! Cosa dici? Molto bene direi un bel giallo dorato, brillante, un vino che ha bollicine abbastanza fini, direi anche o persistenti, assolutamente. Sì, ce ne sono tante, anche il naso se noi lo sentiamo fa 36 mesi sui lievi, non è poco per una cuvea, quindi è bello intenso, è una bollicina di carattere, questa nota di frutta, di banana che è tipica della Chardonnay che viene fuori. Degustiamola! Sentiamola! Direi secco, molto piacevole in bocca, minerale, questo sentitore di mineralità intenso, a notte al palato, a burrosa, piacevole, bello fresco questo vino, ci mettiamo sei gradi, otto gradi, sei gradi, otto gradi, quindi una mezza giornata, una mezza giornata in frigo, portate da sei, otto gradi, una mezza giornata in frigo. E poi con cosa l'abbigliamo? Ah, io qui ho in mezzo una cosa buonissima, tartare di salmone. Wow, l'adoro! Tartare di salmone, grassa, tartare di salmone, barber pulisce, pulisce molto bene, oppure altro pesce, te lo dici. Visto che per rimanere in tema andrei con delle capessanti grattinate, o poi il nostro amico Mazzola ci darà qualche ricetta in collegamento diretto con il sito. Siamo dei colossi! Amici di Medi in Vino, ciao! Cini! Buonissimo! Oh, è migliorato oggi tutto, stare qui! Cioè, ragazzi, prima era buono, adesso è buonissimo, davvero! Ma che buono, hai visto? Ciao! 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 Grazie a tutti.